Sempre da via Santa Croce, anche qui le opere pubbliche hanno fatto una vittima, gli olivi. Ecco qua, come vedete, un oliveto che è stato martoriato. Insomma, ce ne sono dei problemi in questa zona, eh Mario? È abbastanza. Come possiamo fare per dimenticare questi problemi? Vogliamo tutti andare a vedere Travaglio? Ma con tutti i problemi che ci stanno andiamo a vedere Travaglio. Ma a noi Travaglio che ci porta? Spendiamo pure i sorti per Travaglio. Eh beh... Ma qui i sorti spendessero per migliorare le zone qui. Che questi non spendono una lira e poi chiamano e fanno le feste col Travaglio. A noi da Travaglio non ce ne frega proprio niente. A noi ci interessa che la cittadinanza funziona. No che non funziona niente qui. Questi se ne fregano, magnano e bevono e si divertano. Buona giornata.